Pastore Emilio, grazie per essere tornato e siamo contenti di averti. Grazie, grazie per l'accoglienza. Anch'io, come diceva il pastore Ernesto, sono felice di essere di nuovo in mezzo a voi, di vedere il locale ormai insufficiente, inadeguato per contenervi tutti e spero che quelli che sono qui per la prima volta possano comprendere il senso di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo per fare. Abbiamo adorato la presenza di Dio perché crediamo che Dio è mezzo a noi e lo abbiamo conosciuto personalmente e adesso mediteremo nella parola perché la parola vuole insegnarci anche a realizzare il progetto di Dio. Dopo essere stati salvati, dopo aver compreso che Dio ci ama, come è già stato detto, più di ogni cosa, scopriamo nella Bibbia che c'è anche una serie di principi che dobbiamo ricordare perché il progetto di Dio si realizzi nella nostra vita. Io questa mattina mi sarei aspettato più di ascoltare il pastore Ernesto nella sua funzione di delegato apostolico, il pastore Marco che è il padre, il fondatore di questa comunità. Ma dal momento che mi hanno chiesto di parlare ho voluto convincermi che sia stato il Signore a spingerlo in questo senso. È così? Per me è buono saperlo. È buono saperlo. Va bene, siccome il tempo corre e fa anche un po' caldo nel locale, io voglio andare subito nel merito di quanto il Signore mi ha messo nel cuore per voi. La sorella su prima, nel tempo di adorazione, ha chiesto al Signore di parlarci, di manifestare la sua gloria e di parlarci. E noi abbiamo cantato un canto con cui abbiamo anche accompagnato la Santa Cena e in questo canto, con gioia, quindi anche con una certa disinvoltura, è contenuto un principio spirituale molto importante che è importante che sia compreso perché la Chiesa possa essere costruita, perché l'unità possa essere costruita. E la frase è, con una corona di spine diventasti re. Io vi dico la verità, a me piace regnare col Signore, ma le spine non è che mi piacciono molto. Però c'è questo principio spirituale. Gesù è diventato re accettando una corona di spine, che è il simbolo della sofferenza, della rinuncia a se stessi. Ed io ho imparato negli anni, credo anche i fratelli pastori insieme a me, hanno imparato che la Chiesa si costruisce attraverso l'accettazione di spine. Accettiamo le spine, facciamo anche l'esperienza del trono. Chi si abbassa, è un altro versetto che ci dice questa verità, sarà innalzato. Per essere innalzati dobbiamo imparare ad essere abbassati, abbassarci nelle nostre ragioni, nei nostri punti di vista, e contro la nostra natura. Noi tendiamo ad essere ipersicuri di ciò che crediamo, di ciò che pensiamo, e Dio ha una grande difficoltà a renderci docili, come invece questo versetto ci chiede. Amen. Attraverso le spine. Quando senti le spine che ti feriscono, Dio a te stesso il Signore mi sta proponendo un nuovo gradino verso il trono. Non è attraverso la sofferenza fine a se stessa che noi arriviamo a regnare, ma crocifiggendo quella parte di noi che è dissimile da Gesù. Ed è per questo che abbiamo a volte conflitti nel matrimonio, tra fratelli, con i nostri amici e i nostri parenti. Abbiamo conflitti in quella parte di noi che deve essere ancora trasformata, immagino di Gesù. E su quella parte dobbiamo decidere, noi, di mettere una corona di spine, di conficcare dei chiodi e di farle incamminare sulla via del Calvario. L'Apostolo Paolo dice Sono stato crocifisso e ora Cristo vive dentro di me. Parla di un percorso, di un processo. Non crediamo che basti dire quello che Paolo ha detto per poter vedere Gesù vivere nella nostra vita, esprimersi nella nostra vita. Dobbiamo far venire nella nostra vita i chiodi della rinuncia, i chiodi della umiliazione. È un argomento talmente vasto che comincio a avere paura di andare fuori del tema che voglio trattare. Ma sappiate che Gesù, ricordate che Gesù si è vestito di umiltà. Lo stesso Gesù che ha insegnato ai suoi discepoli chi vuole venire dietro di me e rinuncia a se stesso, aveva deciso ancora prima dell'incarnazione di rinunciare a se stesso. Nessuno, disse in un altro momento, mi toglie la vita. Nessuno verrà mai, nessuno potrà mai costringerti ad accettare le spine. Nessuno me la toglie, sono io che la depongo, dice Gesù, per riprendermela dopo. Conosceva il bisogno che c'era di morire al presente, ma sapeva che il Padre lo avrebbe innalzato per quell'atto di umiliazione e di sofferenza che avrebbe accettato per noi. Io sono qui perché Lui si è abbassato. Se Lui fosse venuto a chiedermi conto dei miei peccati e delle mie debolezze, non sarei qui questa mattina. E se Lui non lo fa, se Lui non ci giurica, se Lui non ci confronta, chi di noi può permettersi di farlo con un altro? A me? Anche perché il Maestro ci ha detto con la misura con cui misuri agli altri sarà misurato a te stesso. Allora, andiamo all'introduzione e poi andiamo al soggetto. Va bene? Io voglio parlarvi della diversità unita. È un po' questo l'argomento di oggi ed è questa la sofferenza che viviamo spesso nella Chiesa, la ragione della sofferenza. Siamo tutti fratelli, ma siamo tutti diversi. E noi che abbiamo investito tutta la nostra vita nel Ministerio, nella Chiesa, negli anni abbiamo scoperto, abbiamo sperimentato che la cosa più difficile è conciliare le diversità, è costruire l'unità, che sarebbe poi anche dire costruire la pace. perché la pace non è l'assenza dei conflitti, siamo diversi, quindi saremo in conflitti. La pace è quella capacità acquisita di saper mettere in equilibrio i conflitti. Dio non ci dice nella sua parola che ognuno di noi oppure che qualcuno di noi deve vincere la sua guerra, ma che dobbiamo trovare un punto di equilibrio nel momento del conflitto. perché come cercherò di dirvi nessuno di noi ha pienamente ragione e nessuno di noi ha pienamente torto. Il problema è che siamo diversi. A volte vediamo le cose da diverse prospettive. Abbiamo diversi ministeri, come diceva il pastore Ernesto. Io credo che la cosa più importante della Chiesa sia l'adorazione e la preghiera, ma perché ho un ministerio. Un altro crede che la cosa più importante sia uscire per le strade per ricarare Cristo, perché è un altro ministerio. E questo potrebbe creare conflitti quando veniamo insieme. Di qui l'importanza di umiliarci e di riconoscere che Dio che ha chiamato me ha chiamato anche l'altro e il Signore che ha dato a me un ministerio ha dato un ministerio diverso anche all'altro. Amen. E qui il nocciolo della questione. Io credo che nella comunità siamo tutti nella più perfetta buona volontà. anzi a volte quando i conflitti si protraggono è perché non abbiamo motivazioni carnali. Crediamo che sia giusto mantenere alcune posizioni, però non sappiamo ancora come conciliare la diversità. È un po' come nel matrimonio. Si arriva a momenti di rottura quando il marito comincia a dire io sono il marito o la moglie comincia a dire io sono la moglie, tu mi devi dolcezza. o quando il marito dice tu mi devi rispetto. Se invece noi impariamo lo shalom perché questo è il termine che noi traduciamo con pace e allora troviamo anche il modo migliore per farci capire e per gestire la nostra diversità. In Giovanni 17 mi dispiace perché poi mi rendo conto che mi ritrovo a dover sacrificare sempre i passi biblici però se c'è un modo di proiettarlo così almeno avrete sotto i vostri occhi il testo biblico. In Giovanni 17 versetto 11 a 21 possiamo leggere una delle preghiere più sofferte di Gesù, più disperate, credo anche più spaventate di Gesù. È scritto di Gesù nel Gertesemani che cominciò ad essere spaventato e angosciato. Io credo di poter dire leggendo le scritture che Gesù era spaventato per quello che lo aspettava come sofferenza. La croce, la morte, l'Apostolo ci dice che gridò al Padre per essere liberato dalla morte ma era angosciato anche da un timore che i suoi potessero non farcela che per come le aveva conosciuti per come si erano manifestati fino a qualche ora prima della sua crocifissione potevano anche non ubbidire al suo comandamento. Ognuno convinto di averlo capito meglio dell'altro. E quindi trovate questa preghiera sofferta, l'ultima preghiera di Gesù prima di quella nel Getsemani dopo questo Gesù va nel Getsemani Padre ti supplico perché siano uno perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho fatto un lavoro sulla loro vita ho fatto conoscere il tuo nome ho portato loro le tue parole per la loro vita ma adesso Signore sto venendo a te sto per lasciarli soli io ti supplico che siano uno perché se loro non sapranno essere uno tutto quello che avrò fatto non sarà compreso. Lo dice anche in un altro brano Gesù da questo sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. E l'Apostolo Paolo ci dice che l'amore di Dio è la corona di spine. Se andate in Prima Corinthians 13 scoprite che l'amore non è ricevere dolcezza ricevere carezza può anche essere questo ma l'amore soffre l'amore sopporta l'amore spera l'amore paziente l'amore benigno sono tutte cose che implicano sofferenza ed è questo l'amore di cui sta parlando Gesù. E quindi Gesù sta dicendo Padre insegnagli che cosa intendevo io per amore perché il mondo possa credere e perché loro rimangono uno. La preghiera più sofferta perché l'amore l'unità la conciliazione delle diversità è la cosa più difficile. In Prima Corinzi capitolo 2 vi do solo una referenza biblica l'Apostolo Paolo dice al versetto 10 Io come esperto architetto ho messo il fondamento della Chiesa ogni altro badi a come vi costruisce sopra. Significa che la Chiesa non è facile da costruire occorre saggezza e occorre attenzione e soprattutto dobbiamo imparare che cosa significa quella parolina di Efesini 4 16 che dice che la Chiesa si edifica nell'amore. Ci sono delle formule bibliche straordinarie che sono una sintesi perfetta di costruzione. In Efesini 4 16 l'Apostolo Paolo dice tutto è un versetto in cui Paolo dice tutto noi potremmo prendere lo dico in senso come dire estremo potremmo prendere questo versetto mettercelo in tasca leggere ogni tanto e capire il progetto di Dio per la nostra vita e in questo brano Paolo dice dal Signore tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito dalle giunture tra il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per costruire se stesso nell'amore ogni parola è fondamentale togliete il da lui e la Chiesa è morta l'organizzazione l'efficienza senza lui è morte lui senza organizzazione è disordine le giunture collegare le diverse parti le diversità all'interno della Chiesa sono importanti ma tutto questo dice l'Apostolo Paolo deve essere fatto nell'amore imparando ad accettare le spine Amen quindi l'amore non è quella cosa che io sento per la persona come me che è uguale a me che la pensa come me ma l'amore comincia dentro di me quando affronto il problema della persona diversa da me la persona che mi fa soffrire la persona che mi contesta è lì che noi maturiamo e diventiamo uomini fatti come diceva il pastore Ernesto prima ma siccome il tempo è tiranno come sempre io voglio condividervi dei principi io adesso lo dico sempre non lo faccio mai ma diciamo passo a leggere alcuni pensieri che ho messi così anche se ve li darò in un modo diciamo abbastanza schematico spero che potranno esservi utili allora l'unità presuppone la morte io o tu amare la traduzione una delle traduzioni del verbo amare è scegliere scegliere per l'altro Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio possiamo dirlo anche in queste altre parole Dio ha scelto potendo giudicare il mondo ha fatto una scelta e invece di giudicarci ha mandato suo figlio la nostra salvezza ha presupposto una morte di qualcuno che senza colpa è venuto a morire per noi colpevoli ed è un principio che dobbiamo saper applicare imparare ad applicare sempre meglio nella nostra vita personale nel mio cammino personale con Dio nel mio rapporto con mia moglie nel mio rapporto con le mie figlie nel mio rapporto con le famiglie nel mio rapporto con le chiese e all'interno della comunità in Giovanni 13 35 il versetto che ho citato prima Gesù dice da questo conosceranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri allora io fratelli lo sapete estremizzo perché io ho paura della superficialità Gesù non dice che ci conosceranno se andremo a evangelizzare per le strade noi abbiamo un grande problema usciamo ma non siamo conosciuti non ci riconoscono non vedono la differenza tra noi e gli altri e la nostra predicazione non è che sia molto attraente ho letto ultimamente un commento del cardinale Gianfranco Ravasi al versetto di Paolo quando Paolo dice parla della la parola della croce è pazzia ricordate questo versetto per quelli che periscono e lui dice la traduzione più esatta è la parola della croce è sciocchezza è banalità per quelli che periscono significa che il messaggio di Gesù è ovvio troppo ovvio le persone cercano originalità cercano discorsi complicati e quindi sicuramente anche la predicazione suscita fede ma Gesù sta dicendo che se noi lavoriamo a diventare i suoi discepoli se quindi impariamo ad amarci come lui ci ha amati conosceranno che siamo i suoi e quindi conosceranno crederanno che lui è il Signore il problema è se noi crediamo a questo se noi crediamo che basti fare questo se crediamo che impegnandoci in questo conosceranno che siamo suoi discepoli dobbiamo rispondere a questa domanda crediamo a questo che basti questo crediamo che quello che ha detto Gesù è la parola di uno che sapeva come funziona e come si cambia il mondo perché se noi crediamo a questo dobbiamo mettere tutto l'impegno nel realizzare questo diventare suoi discepoli dobbiamo mettere tutto l'impegno a imparare l'amore di Dio imparare a scegliere per l'altro è dura è dura in uno dei evangelio è scritto che un giorno Gesù si presenta davanti a Giovanni conoscete questo episodio e Giovanni va in tilt va in tilt Gesù gli si presenta e chiede di essere battezzato e il profeta Giovanni che vede in lui il santo di Dio all'improvviso si confonde e l'Evangelo ci rivela questo dialogo intimo fatto sottovoce ma come tu dovresti battezzare me io sono il peccatore e tu vieni da me per essere battezzato da me che sono il peccatore tu vieni a per un battesimo di ravvedimento non avendo nessun peccato di cui ravvederti un discorso che ci confonde ma Gesù risponde lascia fare Giovanni dobbiamo adempiere così ogni giustizia quello che a noi sembra sbagliato davanti a Dio è giustizia cedere davanti a chi è inferiore è giustizia cedere davanti a chi ha sbagliato è giustizia è questo il regno di Dio quando io mi presento davanti al Signore la cosa che negli anni mi ha insegnato stare tranquillo è che Lui cede ai miei limiti sicuramente mi dice Emilio c'è questa cosa che non va ma me lo dice con un atteggiamento con l'atteggiamento di uno che ha ceduto e ha deciso di accettarmi così come sono ma trovo un Dio umile che viene a confrontarmi lo stesso Dio che ho conosciuto la prima sera della mia conversione ed è perché ho conosciuto questo Dio che sono ancora qui l'unità presuppone la trasformazione in Dio io devo diventare sempre più simile a Dio quando sono stato salvato mi sono accorto dopo pochi giorni di essere stato salvato di avere un cuore nuovo ma di essere ancora l'uomo vecchio di prima desideri nuovi ma anche cose vecchie che dovevo decidere se santificare o se lasciare lì se continuare a confidare solo nella potenza del sangue di Gesù oppure se impegnarmi in un cammino di santificazione e cioè di individuazione di tutto ciò che dentro di me era ancora vecchio crocifissione di quello che la vita manifestava di me nonostante il mio amore per Dio in vista di una trasformazione in Dio e si soffre si sta male per questo a volte alcuni si fermano e tornano indietro per questo alcuni hanno problemi per anni perché quando arrivano sulla soglia della sofferenza non ce la fanno e tornano indietro perché credono che debba essere l'altro a portare la croce ma Gesù ci dice amatevi gli uni e gli altri significa imparate gli uni e gli altri a caricarvi delle spine se questo libera il rapporto verso l'altro in Efesini 1 22 23 vi lancio un altro versetto che almeno io considero rivelatore ci viene detto che tutto è bloccato perché la Chiesa si blocca il ritorno di Cristo è bloccato la manifestazione della gloria di Dio è bloccata in questo versetto c'è una parola importantissima che è compimento ah il versetto scusate 22 23 sì è questo ah sì scusate guardavo sotto la Chiesa è il corpo di Lui il compimento di Colui che porta compimento ogni cosa in tutti allora riuscite a vedere la Chiesa è il compimento e quando la Chiesa si compie che Gesù può portare a compimento ogni cosa in tutti amè la Chiesa c'è e non c'è potenzialmente c'è ma abbiamo letto in prima Corrinzi 2 la Chiesa va edificata con saggezza e va costruita con attenzione con vigilanza va di ognuno come edifica la casa di Dio quando una comunità sarà compiuta attraverso quella comunità si compiranno anche tutte le cose che Dio ha progettate ma il lavoro di Dio attualmente è ancora sulla sua Chiesa vi cito uno dei tanti versetti che confermano questo il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio che non significa che Dio viene a condannarci ma che Dio viene col piombino e viene a vedere se noi possiamo dire ad altri ciò che è giusto viene a vedere se noi siamo diventati o se stiamo diventando quello che poi vogliamo annunciare agli altri in Romani l'Apostolo Paolo dice voi avete la legge ma trasgredite la legge voi dite che non bisogna fare questo lo dite agli altri ma voi lo fate e conclude per questa ragione in nome di Dio non viene creduto addirittura dice per questo in nome di Dio è bestemmiato tra i pagani assolviamo forse quelli che sono indifferenti o ribelli a Dio assolutamente no ma il problema reale rimane per il Signore la sua Chiesa quando noi impareremo ad amarci potremo andare a parlare dell'amore di Dio quando avremo imparato a vestirci dello spirito che è in Gesù potremo andare a parlare agli altri dello spirito che devono cambiare nella loro vita Giovanni 12 24 se il granello di frumento quindi se la base della vita la cosa da cui nasce l'albero nuovo che il Signore vuole portare all'esistenza se il granello non cade se il granello caduto in terra non muore rimane solo ma se muore porta molto frutto io credo profondamente nella parola di Dio io non cerco spiegazioni nei libri perché ogni uomo ha una sua interpretazione il mio punto di riferimento è la parola di Dio se non portiamo frutto è perché non siamo caduti o forse siamo caduti e non siamo morti questo sta dicendo Gesù indebolisciti nelle tue parti carnali decidi di romperti cadi assicurati di morire e poi vedrai che Dio attiverà il processo della risurrezione e quindi io sono diventato molto più comprensivo verso i peccatori non che non li chiami più peccatori ma dentro di me è come se dicessi vi chiedo scusa perché non siamo ancora quello che dovremmo essere vi chiedo scusa perché non vedete quello che dovreste vedere nella nostra vita chiaramente questa essendo il mio uno dei ministeri è la mia visione ed è quella a cui mi sento chiamato dal Signore portare la Chiesa ad una maggiore rassomiglianza con Gesù che è il capo della Chiesa perciò nella Bibbia è scritto anche accoglietevi gli uni gli altri e poi continua come Dio vi ha accolti in Cristo Gesù perché noi leggiamo la prima parte accoglietevi e ci apriamo poi sentiamo la sofferenza e ci richiudiamo ma io la voglio accogliere però lui non è come dovrebbe essere e allora Paolo dice accoglietevi come Dio vi ha accolti in Cristo Gesù e noi sappiamo come Dio si ha accolti in Cristo Gesù io spero che nessuno di noi sia convinto di essere stato accolto da Dio perché più bello migliore degli altri lui ci ha accolti in Cristo Gesù per quello che Gesù ha scelto di fare per noi e per la fede che noi abbiamo deciso di avere in Gesù Cristo la diversità unita è stato un punto da mettere come punto fermo è questo è Dio che l'ha decisa voi guardatevi intorno non vedete due persone uguali non è un caso è Dio che l'ha voluto non trovate due caratteri uguali sembra che alcune persone si rassomigliano ma c'è sempre un minimo di differenza non trovate due occhi uguali non trovate un corpo uguale vedete voi dite quello è Emilio ma Emilio è diverso è fatto di tante parti diverse e unite io non sono una cosa sono un insieme di più cose Dio ha voluto questo se guardate la comunità perché adesso andiamo a considerare la comunità Dio ci ha scelti volutamente diversi e il Signore ha messo nella comunità alcune persone che siano di supporto ad altri ma ha messo nella comunità alcune persone che siano di spine per altri anche se per evitare di sentirci un po' migliore dobbiamo ricordare che ognuno di noi è una spina per l'altro ognuno di noi io a volte sono un incoraggiatore a volte sono una spina e devo rendermi conto che non sono perfetto nel Signore non devo pensare poiché io sono a capo di questa comunità tutto quello che dico tutto quello che faccio è amore sacrosanto ed è spirituale all'improvviso divento una spina ma se riesco a concludere alla fine benediremo le spine più della persona che ci ammirava e acconsentiva tutto quello che eravamo perché le spine servono a porci il problema dell'amore la spina che mi ferisce mi fa pure una domanda perché ti fermi se hai deciso di diventare simili a Gesù che cosa ha fatto Gesù quando si è caricato delle mie contraddizioni dei miei peccati e quindi alla fine la spina è quella cosa che mi costringe ad andare a Dio devo correre nella presenza di Dio se non voglio peccare e devo riconoscere quel passaggio come un momento preparato da Dio per la mia crescita considerate come argomento di grande gioia le prove in cui venite a trovarvi e se non capite quello che vi sta succedendo chiedete sapienza a Dio ma il fatto che Giacomo dica guardate come argomento di grande gioia sta dicendo è qualcosa che Dio sta permettendo per benedirvi di più perché Cristo si sviluppi di più nella vostra vita perché col tempo lo capiremo come io lo sto capendo il nemico più grande siamo noi il nostro nemico più grande dentro di noi colui che mi fa soffrire dentro di me colui che mi fa indurire dentro di me Satana fa solo il suo lavoro ma nella Bibbia vedo che se non do spazio lui non può fare nulla nella mia vita lui non può farmi chiudere ad un fratello se non sono io a decidere ad consentire alla chiusura e quindi il Signore ha stabilito la diversità guardate la natura gli uccelli una cosa meravigliosa quando io guardo alcuni documentari e vedo quegli uccelli che forse nessun uomo mai vedrà nelle foreste dell'Amazzonia non posso fare altro che dire Signore come diceva Davide quanto è grande il tuo nome quelle sfumature di colore meraviglioso perché Dio è così Dio ama la diversità Dio stesso è uno è diverso vero? è diverso ma è uno il nostro Dio è Padre Figlio e Spirito Santo è uno ma è diverso è diverso però è uno e il regno di Dio è stabile perché i tre sono diversi ma sono uno e se paradossalmente paradossalmente perché non potrà mai accadere perché hanno la stessa natura ad un certo punto il figlio decidesse di non ubbidire al padre immaginate le conseguenze il trono di Dio sarebbe scardinato perché la Bibbia dice che il trono di Dio è stabilito sulla giustizia sulle giuste attitudini sul rispetto sulla sottomissione sull'amore soprattutto quando Gesù parla del suo ministerio rivela quello che era alla base del ministerio che tutto quello che faceva lo faceva soprattutto perché amava il padre non era un super titano Gesù e non credere che per accettare le sofferenze devi prima ricevere chissà quale grande unzione è l'amore di Dio che se tu lo fai vincere nella tua vita l'amore per il padre che ti darà la capacità di restare ubbidiente mentre tutto dentro di te ti porterebbe a cedere le armi e ad andartene padre adesso un altro passaggio sono turbato dentro di me e che dirò adesso liberami o padre glorifica il tuo nome che facciamo quando siamo turbati chiediamo al Signore di liberarci del problema di liberarci del fratello della circostanza della sofferenza o combattendo accettando le spine se necessario gli diciamo glorifica il tuo nome vedete in questi passaggi che noi avanziamo oppure arretriamo c'è una bellezza nella diversità c'è una benedizione nella diversità la benedizione è questa io posso essere me stesso non devo diventare come quell'altro perché Dio mi ha fatto diverso nessuno può dirmi diventa come me qualcuno può dirmi fa le cose che faccio io ma nessuno può dirmi diventa come me e quindi c'è una benedizione in questo ci possiamo rilassare e credere che se siamo mignoli vuol dire che Dio ci ha fatti mignoli se ci ha fatto intestino vuol dire che ci ha fatti intestino e accettiamo e anche per questo c'è bisogno di molta molta umiltà però la diversità porta anche un problema e quindi porta anche una sofferenza e il problema è che siccome siamo diversi non tutti la pensano come me non tutti la vedono come me perciò è scritto in proverbi 15 22 e in proverbi 24 6 i consigli degli uomini sono destinati a fallire ma il successo è nel numero dei consiglieri c'è un versetto che potete interpretare da voi senza bisogno di tanti non pensare mai che il tuo consiglio sia quello migliore non fidarti del tuo discernimento perché tu non sei la chiesa non sei il ministerio tu sei uno che ha ricevuto una misura di grazia è una parte di rivelazione quando era al liceo ho studiato filosofia adesso non ricordo nemmeno se era filosofia oppure in italiano ma ricordo una serie di tre parole che mi sono tornate spesso negli anni che possono essere una formula di saggezza che però non sempre noi riusciamo a mantenere e queste tre parole sono parole di un filosofo tesi parola numero uno antitesi sintesi la tesi è ciò che penso la mia tesi ha bisogno di un'antitesi c'è bisogno di qualcuno c'è bisogno io devo sapere accogliere chi mi dice però però forse non è come dici tu però forse non è solo come dici tu la capacità di ascoltare l'antitesi ci porta ad una buona sintesi e la parola sintesi viene dal greco siun tesi che significa tesi insieme quindi la saggezza è in ciò che credo in ciò che io permetto che venga contestato e in ciò che viene fuori come riflessione comune che è appunto la sintesi ed io credo che ogni tesi è sempre migliorata dall'antitesi perché anche se l'antitesi è carnale è saggio per chiunque ha una tesi saper sottoporre anche alle critiche ciò che pensa sia giusto perché portando l'antitesi e la tesi nella presenza di Dio ne possiamo arrivare ad una sintesi che forse è più bilanciata e quindi l'importanza della diversità unita in atti undici c'è uno dei brani che sto amando di più da un paio d'anni e atti undici venti ventisei è scritto che alcuni dei discepoli cominciano a predicare ad Antiochia e ci fu un grande movimento dello spirito ci fu un grande risveglio e allora la chiesa di Gerusalemme manda degli apostoli manda Barnaba quando gli giunse vita la grazia di Dio si rallegrò guardiamo cosa fa si rallegrò poi li incoraggia ad attenersi al Signore poi versetto 24 attenzione perché gli era un uomo buono questo mi ha colpito ultimamente era un uomo buono pieno di spirito santo nel versetto 25 Barnaba parte verso Tarso eh a cercare Saulo io credo che oggi molti ministeri avrebbero fatto diversamente e alla luce di questo versetto posso dire non sempre i ministeri sono buoni cioè non sempre gli uomini che gestiscono i ministeri sono uomini buoni perché uomo buono in questo caso sta ad intendere uno che voleva il bene della Chiesa un uomo che non aveva mire personali ed era pieno di spirito santo perché era un uomo buono ed era pieno di fede perché era un uomo buono e dimostra di essere un uomo buono perché si rende conto del limite qui tocchiamo un problema grande del compimento mentre qualcun altro avrebbe forso avrebbe forso subito impresso il suo timbro su tutto quello che stava accadendo ad Antiochia questa è l'opera del grande evangelista Pinco Pallino Barnabar dice no c'è un'opera dello spirito io ho un ministerio ma c'è uno che ha qualcosa che io non ho e va a cercare il diverso va a cercare Saulo e lo porta ad Antiochia e cominciano ad insegnare insieme e la cosa bellissima che può sfuggirci è che fu qui che i primi discepoli furono chiamati cristiani investigate su questa frase la diversità unita porta il segno di Cristo e quelli di Antiochia riconoscevano che quei discepoli erano discepoli di Gesù come abbiamo detto in Giovanni capitolo 13 una realtà a cui voglio accennare che siamo diversi come ministeri ma siamo diversi anche come persone ognuno con una sua personalità ognuno con una sua storia ognuno con delle cose belle e delle cose brutte ognuno la affermazione che faccio di conseguenza è questa è che prima di poter lavorare insieme come ministri dobbiamo imparare ad amarci ad accettarci ad aiutarci come persone è scritto di Gesù che amò i suoi non aveva una squadra ministeriale aveva 12 persone che amò di cui conosceva la storia più intima più profonda conosceva le durezze conosceva le bellezze e li plasmò e quindi non si può pensare costruiamo una bella chiesa unendo i ministeri dobbiamo fare attenzione anche se non prima a unire le persone nelle quali Dio ha messo i suoi ministeri molti problemi non li abbiamo come ministri li abbiamo come persone e li abbiamo perché l'esigenza più grande che ognuno di noi ha è di essere amato per quello che è senza dover essere costretto a cambiare Sant'Agostino dice alla fine di tutte le cose saremo giudicati sull'amore non su quante chiese è aperta sarei giudicato sull'amore questo è il solo comandamento ci sono tante altre opere che dobbiamo fare ma Gesù dice non trascurate questo prima Corinti 13 l'apostolo Paolo da cui Agostino ha assorbito queste verità dice una cosa fondamentale per noi che amiamo la Pentecoste il soprannaturale i doni e i carismi versetto 1 a 3 quando anche parlassi le lingue degli uomini le lingue degli angeli non avessi amore sarei un rame risonante o un cembo allo squillante quei suoni che durano qualche secondo poi non si rimane non c'è solidità non c'è continuità se avessi il dono di profezia che pure Paolo ci incoraggia a cercare conoscessi tutti i misteri tutta la scienza e potessi smontare smontare scusate spostare anche le montagne avessi una fede talmente grande Paolo dice se non hai l'amore tu non sei nulla e anche se spendessi la mia vita per i poveri eccetera eccetera leggete il versetto se non hai amore tu non sei nulla a me alla fine io sarò giudicato su come avrò imparato ad amare su come mi sarò impegnato a far crescere Gesù nella mia vita il problema è che noi siamo per natura egoisti tutti quanti noi non ne siamo consapevoli la reazione così forte a chi ci contesta è perché siamo fondamentalmente egoisti portiamo sicuramente il segno di Dio ma portiamo anche il segno di colui che ha marcato Adamo e quindi c'è questa doppia natura che si combatte dentro di noi siamo egoisti accentratori tendiamo a prendere tutto lo spazio per noi vi vorrei suggerire di ascoltare una canzone del cantautore Giorgio Gaber per chi non la conosce questa canzone si chiama la parola io ascoltatela vedete l'insegnamento profondo che vi verrà anche dal Signore perché il Signore non parla solo a noi il Signore parla col suo spirito a tutti gli uomini e Gaber fa una descrizione straordinaria dell'io per cui poiché siamo tendenzialmente egoisti amare presuppone una morte perché il pastore Marco riceve ascolto bisogna che io decida di far morire il pastore Emilio perché se il pastore Emilio è troppo vivo troppo presente a se stesso troppo sicuro di se stesso il pastore Marco potrà parlare una vita ma quella cosa non passa perché tutto quello che lui dirà se è diverso da quello che io penso rimarrà inascoltato a volte noi facciamo finta di ascoltare ma creiamo una selezione nelle cose che ci vengono dette e buttiamo a destra e a sinistra tutto ciò che non è conforme a ciò che pensiamo la chiesa ricordiamolo è corpo cioè nessuno di noi può fare l'opera di Dio può costruire la chiesa da solo e la chiesa corpo significa che bisogna crocifiggere l'individualismo bisogna crocifiggere quel versetto prima Corinti 12 dove Paolo dice nessuno può dire io non ho bisogno di te io nei primi anni del mio ministerio avendo ricevuto un certo insegnamento non avevo difficoltà a dire non sei d'accordo con me non ho bisogno di te Paolo dice quando ero fanciullo ragionavo da fanciullo poi crescendo 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 morendo 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 ho cominciato a parlare come un uomo e nessuno di noi può dire all'altro io non ho bisogno di te perché in Evesini 4.16 abbiamo letto che la chiesa prende la sua forza una comunità una famiglia prende la sua forza nella misura del vigore di ogni singola parte perciò in Matteo 5 23-24 ho quasi finito eh fratelli anzi ho finito Gesù dice se tu stai per offrire la tua offerta sono quei versetti che conosciamo a memoria ma che puntualmente disattendiamo e viene meno il compimento se tu stai per offrire la tua offerta compensativa alternativa se tu stai per adorare stai per cantare stai per dare l'offerta in comunità ma ti ricordi che un fratello ha qualcosa lascia stare tutto va prima e riconciliati poi vieni e offri l'offerta significa che dobbiamo guardarci dalla tentazione di bypassare dei passaggi mi costa preferisco mettere dieci euro in più oggi ah è troppo doloroso affrontare questo questo colloquio questo chiarimento no rimando 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 ma Gesù dice lascia stare tutto il resto non andare a evangelizzare non andare a pregare prima riunisci la chiesa quella parte di chiesa di cui fai parte Satana conosce questi passi il problema è questo lo vediamo in Matteo Satana è un grande teologo un grande espositore della parola e quindi lui conosce questi passi sa che se noi non ubbidiamo a Gesù si apre un varco nella nostra vita e quindi Satana lavora a dividerci come lo spirito lavora a unirci Satana altrimenti chiamato diavolo che viene dal greco diabolos il divisore lavora sistematicamente a unirci io penso vediamo come devo unirmi di più al pastore Marco Satana dice vediamo come posso impedire questa unità perché l'unità porta alla forza porta ad una maggiore forza del pastore Emilio e ad una maggiore forza del pastore Marco nessuno può dire io non ho bisogno di te e quindi Satana lavora a dividerci è lui quel muro che a volte non riusciamo a superare hai mai avuto l'esperienza quando stai per decidere in una certa direzione stai decidendo di andare verso tua moglie tuo marito verso un fratello di avvertire come un muro è lui è lui che è lì e quel muro all'improvviso diventa un grande ragionatore come ho scritto in un ultimo quaderno che abbiamo pubblicato Satana sa trasformarsi da pubblico ministerio a principale difensore per ognuno di noi quindi Satana passa all'improvviso da colui che ci accusa fino allo spasimo a colui che ci elenca tutte le ragioni per cui possiamo non andare dall'altro e ci enuncia tutti i limiti i difetti e le brutture dell'altro è lui quella voce che ci ricorda solo gli errori del fratello e invece io ho scoperto forse sbaglierò non lo so forse nel modo di dirlo è sbagliato ma nella sostanza credo che sia giusto che Dio stesso si aiuta con l'amore quando parla con me nel senso io credo che Dio quando mi vede sicuramente sa tutto della mia vita dei miei errori delle mie mancanze ma si aiuta dicendo a se stesso Emilio è quello che sta cercando di diventare Emilio è quello che l'altra volta mi ha cercato per due ore trasportandolo sul livello dei rapporti fraterni noi verremmo sicuramente agevolati nella riconciliazione se invece di impuntarci sulle mancanze e sugli errori del fratello ricordassimo i momenti belli vissuti con quel fratello i tempi in cui il fratello era un nostro aiuto era una parte di cui sentivamo la benedizione anche in questo credo vada l'esaltazione di Pietro quando dice resistete al diavolo stando fermi nella fede e io dico dobbiamo restare fermi nella fede anche nel fratello se tu vedi un fratello che cade cosa dice la Bibbia? prega non emettere sentenze non considerarlo liquidato non pensare il Signore ha fatto emergere no devi pregare perché pregando il Signore forse ti rivelerà una diagnosi diversa da quella che forse tu sei portato a fare la diversità dunque è una benedizione ma porta anche i conflitti ma sono propri i conflitti a mostrarci la nostra debolezza nell'amore nell'amore così come Dio lo vuole sono propri i conflitti a costringerci a cercare altro amore mi seguite fratelli? quando tu non ce la fai o ti arrendi o vai da chi ha l'amore sufficiente e quindi il conflitto è qualcosa che paradossalmente mi aiuta nella mia crescita spirituale perché mi costringe a cercare Dio e mi aiuta ad assorbire altro amore da Dio quell'amore che nessuno di noi possiede e vogliono portarci i conflitti alla satura di Cristo cioè fino a pregare come dice Gesù per quelli che ci perseguitano e ad amare i nostri nemici noi ci crediamo in queste parole crediamo che il Signore ce l'ha chiesto è vero pregate per quelli che vi perseguito lo facciamo e quanto a lungo lo facciamo con quanta facilità invece all'improvviso interrompiamo la preghiera e cominciamo a ricordare che quello che ci perseguito non è come pensavamo e quindi cominciamo a diventare accusatori amati i vostri nemici siamo capaci di amare i nostri nemici ma che cosa voleva dire Gesù e concludo con questa ultima perché Gesù ci chiede questa cosa apparentemente ingiusta io credo per due ragioni perché spesso chi ci perseguita non vorrebbe farlo forse chi ci perseguita non sa quello che fa è convinto di difendere l'opera di Dio ricordate Saulo minacciante spirante minacce furioso attaccava i cristiani li portava in catene convinto di difendere il nome di Yahweh l'opera di Yahweh e alla fine Paolo dice nella mia ignoranza dobbiamo ammettere che qualcuno possa fare delle cose per ignoranza perché crede giusto qualcosa che invece agli occhi di Dio è sbagliato oppure chi ci perseguita non è proprio lui a perseguitarci in Efesini 6.11 è scritto che la nostra battaglia non è contro carne e sangue attenzione quando ci blocchiamo sul viso di un fratello e quel fratello diventa la persona che catalizza tutta la nostra attenzione io so a volte diciamo di pastori che durante i culti non riescono più a guardare la comunità ma la loro attenzione rimane bloccata dall'espressione di uno o di due sono le persone da cui a volte si sentono contestati e si avvia una guerra naturale tra persone mentre invece probabilmente dietro c'è una macchinazione diabolica e poi la seconda cosa Gesù che ci chiede di amare i nostri nemici è perché spesso quelli che ci sono nemici forse non lo sono veramente forse come abbiamo detto sono solo diversi da noi e quindi ci fanno sentire insicuri hanno altri doni altri ministeri un'altra porzione della visione a cui Dio ci ha chiamati perciò in proverbi 28 23 è scritto e l'ho citato prima colui che ti riprende colui che ti fa antitesi alla fine ti sarà più grato di colui che ti lucinta ma abbiamo il problema delle spine dobbiamo sviluppare la nostra saggezza capire che il dolore la sofferenza è l'occasione che Dio mette davanti a noi per attingere altre grazie e per essere trasformati ancora di più a immagine del nostro maestro sapete se non sapremo soffrire per le ferite che l'ubbidienza porterà al nostro uomo vecchio ci condanneremo a restare come leggiamo di tanti nella Bibbia bambini spirituali o carnali come è scritto altrimenti stuzzica il bambino dà uno schiaffo al bambino e il bambino non ragiona più noi dobbiamo crescere dobbiamo maturare e per fare questo abbiamo bisogno di imparare sempre di più ad accoglierci come parti diverse dello stesso corpo e se abbiamo una tesi di cui siamo sicuri non temiamo di ascoltarne l'antitesi perché sicuramente se abbiamo il timore di Dio il Signore ci condurrà ad una sintesi molto più efficace che costruirà l'opera in un modo più solido di quando avremmo fatto con la nostra sola tesi Amen Dio vi benedica spero che possano essere più utili questi principi grazie 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 grazie